Allora, sono con Greg e Claudio Gregori per parlare di aggregazioni, un gioco di parole, dove c'è un po' di tutto. Eh sì, ovviamente è un gioco di parole col mio cognome, quindi anche col diminutivo, e anche perché in realtà nasce come libro, un libro che ho dato alle stampi qualche tempo fa, che erano delle cose che avevano nel cassetto, un'aggregazione di piccoli racconti brevi, dissertazioni, poesie... Sul senso della vita. Sul senso della vita, però in maniera comica ma anche amara. Un po' salace. Eh sì, e quindi da questo ho tratto un monologo che a sua volta è comico ma amaro. Il tutto in un'atmosfera un po' retro, Claudio. Sì, perché il protagonista, che in realtà poi è evidente quanto sia comunque un fallito, è un detective che vorrebbe essere il Marlowe di Raymond Chandler, invece si rende conto di essere un detective capitolino. Un po' c'è altruone. Ma neanche qui, non neanche tanto, però che vive a Roma, quindi con gli disagi che ci sono qui. Allora, tu stai a scena dal 19 novembre al primo dicembre. Aggregazioni di e con Claudio Gregori. Grazie Claudio. Ciao, un bocca al lupo. Vive.